o eccoci qua allora dopo una lunghissima assenza per 23 svariati motivi la prima con l'avvento di luglio agosto ho dovuto preparare molte cose a livello lavorativo quindi ho potuto dedicare poco tempo al canale di conseguenza fatto la parte lavorativa sono stato anche un po in ferie e ho avuto staccare totalmente la testa dai social dal telefono al di là di catanzaro o del catanzaro proprio in sé vi assicuro che fa bene all'anima e alla salute proprio staccare la testa da questo dispositivo qua che purtroppo è brutto però serve altra cosa è stato un mercato in cui vi ne parlerò con un video penso domani e comunque c'è da parlare anche della partita contro l'Empoli un mercato in cui due o tre nomi mi hanno disusiasmato gli altri vuoi per conoscenze e vuoi perché devo entrare al centro del progetto e ho visto le partite le ho viste e quindi niente questo era un piccolo saluto un video preambulo e mi rifaccio vivo subito ripeto c'è la parola della partita dei pari di tutto catanzaro di quello che è successo delle due partite perché ho visto che dai commenti insomma non tanti sono contenti appunto ragazzi like condividete commentate condividete scusatemi questa lunga attesa e assenza ma era doveroso ne avevo veramente bisogno tra lavoro e staccare la testa dei social e questo è quanto ci aggiorniamo quanto prima possibile ciao ragazzi